Ricordo le domande alla fine, microfoni silenziati e per favore non interrompete per sbaglio la registrazione. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto grazie per avermi dato questa opportunità di fare questo seminario e grazie a tutte le persone che stanno partecipando. Allora, io prima di iniziare a entrare proprio nel merito della presentazione ci darei particolarmente a introdurre quella che è la nostra unità funzionale di cui io ovviamente faccio parte perché tutto quello che andremo a vedere dopo è frutto di un lavoro di squadra, quindi frutto di un lavoro che noi facciamo come gruppo. La nostra unità funzionale è composta da colleghi per lo più tecnologi, tecnici e un ricercatore che si occupano da diverso tempo di esplorazione geofisica e sottosuolo. Noi come gruppo operiamo nel campo del geofisica, Near Surface Geophysics, tecnicamente parlando, ovvero siamo in grado con le nostre tecniche di esplorare il sottosuolo sia a piccole profondità sia a profondità un po' più grande nell'ordine di qualche centinaio di metri, insomma nei primi due, trecento metri di profondità. E questo lo facciamo quindi lavorando in vari campi di applicazione, quindi per la parte più superficiale, quindi lavoriamo in campo archeologico, ma lavoriamo molto in campo geologico, idrogeologico e anche da diversi anni in campo ambientale. Ora, molti dei nostri studi, sia in passato che attuali, derivano diciamo da collaborazioni che facciamo sia con colleghi degli NGV, anche di altre sezioni o anche di altre sedi, ma soprattutto anche con altri istituti di ricerca, università o compagnie private. E in quest'ambito, nel corso degli anni, abbiamo costruito un laboratorio, un parco strumentale che vanta, insomma, diversi strumenti che noi appunto utilizziamo nei campi di applicazioni soprascitati e che sono appunto metodi elettrodi, quindi noi facciamo tomografia elettrica di tipo galvanio, quindi tomografia elettrica tipo classico con i picchetti nel terreno, quella capacitiva che vedremo oggi, ma ci occupiamo molto di metodi magnetici, da un anno a questa parte anche stiamo iniziando a equipaggiare il nostro laboratorio anche di metodi per fare, strumentazione per fare sismica attiva e soprattutto abbiamo diversi strumenti per fare, per esplorare sotto solo con tecniche elettromagnetiche, in particolar modo nel dominio della frequenza, nel dominio del tempo e anche i georadar. Oggi quindi parleremo della tomografia elettrica capacitiva che in questa presentazione io ho voluto suddividere questa presentazione in due parti, diciamo una parte più teorica, quindi andiamo a vedere proprio i principi diciamo teorici di base su cui si fonda il metodo, vi farò vedere la strumentazione, come è fatta, come funziona, dopodiché diciamo tutta la seconda parte riguarda una serie di casi di studio che ho preparato e che vi illustrerò con tutti i risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi sei anni, da quando abbiamo iniziato più o meno a utilizzare questa tecnica. Allora, prima di avventurarci nel mondo della georetta capacitiva, due alcuni concetti di teorie di base. Allora, parleremo di resistività, quindi parleremo di corrente, parleremo di differenze potenziali, questi sono tutti elementi che sono stati scoperti diverso tempo fa e che sono ben rappresentati chiaramente dalla prima e dalla seconda legge di Ohm. Quindi in particolar modo una corrente quando si muove su un corpo non lo fa così liberamente, senza diciamo subire nessun contrasto alla sua propagazione e quindi diciamo un corpo oppone una resistenza al passaggio della corrente. Poi ci sono degli elementi, dei materiali che la oppongono più forte, materiali che diciamo questa resistenza è più blanda. Quindi la prima legge di Ohm fa proprio, mette relazioni questi tre elementi, quindi l'intensità della corrente, la differenza dei potenziali e la resistenza dei materiali. Poi però c'è un altro concetto importante che bisogna tenere a mente, che chiaramente un materiale in base alla sua geometria, quindi per esempio in particolar modo la sua lunghezza, può avere una resistenza, la sua resistenza non è sempre la stessa, pur essendo sempre lo stesso materiale. Quindi per esempio un cavo, un materiale, raddoppiando la sua dimensione, la sua lunghezza, si raddoppia anche la sua resistenza, pur rimanendo lo stesso tipo di materiale. E questo è ben descritto dalla seconda legge di Ohm. Quindi il parametro fisico che caratterizza appunto queste differenze in resistenza, che è poi l'elemento che noi andiamo a misurare quando facciamo una campagna geofisica in campo, è appunto la resistività. La resistività che rappresenta proprio appunto questa attitudine di un materiale a lasciarsi attraversare o meno da una corrente. Ora, da questo grafico voi capite bene che la resistività è un parametro che va preso molto, cioè quando si interpreta questo parametro fisico, bisogna tenere in conto tantissime cose. Innanzitutto, in particolare che questo parametro fisico, questa proprietà fisica, è influenzata da tantissimi fattori. In particolar modo, il contenuto in acqua e per esempio di che tipo di acqua stiamo parlando. Quindi faccio un esempio, una ghiaia che è satura di acqua dolce, ha una resistività che è sicuramente più alta della stessa ghiaia satura di acqua salata. Perché? Perché l'acqua salata abbatte di molto la resistività, quindi aumenta la conducibilità della sabbia. E poi ovviamente anche la temperatura, qui ne avete riportati i principali. E soprattutto, quando si interpretano delle sezioni di resistività, bisogna sempre tenere in presente una cosa, che diversi materiali possono avere la stessa resistività e viceversa. Quindi, come sicuramente molti di voi sapranno, una delle tecniche principali che viene utilizzata per misurare la resistività del sottosolo è appunto la tomografia elettrica, definita galvanica. Galvanica perché i sensori che vengono utilizzati per iniettare la corrente e misurare differenze di potenziale, sono degli elettri che vengono infissi nel terreno. Quindi sono, diciamo, all'interno, inglobati nel terreno. In questa immagine voi vedete chiaramente che due elettrodi, quindi in questo caso C1 e rappresentate C1 e C2, si inietta una corrente, si creano delle linee equipotenziali, delle linee di flusso, quindi di corrente, che appunto creano, attraversando il terreno, delle differenze di potenziali che vengono lette da altri due elettrodi che vengono qui rappresentati con P1 e P2. In questa configurazione noi stiamo vedendo un dipolo, dipolo classico, ovvero un dipolo che trasmette e un dipolo che riceve. Ovviamente questo avviene nelle tre dimensioni, perché chiaramente il substrato che noi investighiamo è appunto un corpo tridimensionale. Ora, e questo come avviene? Le correnti in un contesto galvanico, quindi delle tomografie elettriche classiche che molti di voi sicuramente conoscono, è man mano che io allargo la spaziatura tra gli elettrodi di corrente e gli elettrodi di potenziale, vado più in profondità, vado a investigare il sottosuolo sempre più in profondità. Ora, qual è quindi la differenza tra la tomografia elettrica così rappresentata, quindi galvanica, rispetto a quella capacitiva? Allora, la differenza, per capire bene questa cosa, bisogna fare un piccolo salto nel passato. Non so se qualcuno di voi ha mai, sicuramente qualcuno sì, ha mai sentito parlare della bottiglia di Leida o se ha mai sentito parlare di condensatore, capacitore, cose del genere. Allora, fondamentalmente tanti anni fa, quindi metà degli anni Settecento, questo fisico olandese, che tra l'altro non si chiama Leida, ma ha tutto un nome strano, ma è molto difficile da pronunciare, quindi chiamiamolo il signor Leida, praticamente ha fatto un esperimento per cui mettendo una, diciamo due lamine, due conduttori, quindi due, che ne so, come vedete qua in questa immagine che ho preso da internet, due conduttori, e in mezzo ci ha messo un isolante, praticamente ha provato con la sua pelle, mettendo del liquido dentro a questo sistema che aveva creato, ha preso una bella scossa sulle labbra. Quindi si è accorto che praticamente due conduttori isolati uno con l'altro accumulano una carica, quindi fondamentalmente ha scoperto quello che è il condensatore. E soprattutto che se a questo sistema viene applicato un impulso, quindi un impulso di corrente alternata, questo, e mettiamo quindi un capacitore, un altro capacitore a fianco all'altro, e vi è la possibilità di trasferire questa corrente da un elemento all'altro. E questo fenomeno si chiama appunto accoppiamento capacitivo. Ovviamente l'evoluzione tecnologica è andata avanti, per cui oggi, non da tantissimo tempo, ma da circa una diecina d'anni abbondanti, esistono degli strumenti che permettono di trasferire la corrente, una corrente alternata nel terreno, quindi una corrente, indurre una corrente nel terreno, non mettendo degli elettrodi infissi nel terreno stesso, ma semplicemente trascinando dei sensori che sfruttano l'accoppiamento capacitivo. Quindi, come vedete qua schematizzato, abbiamo un trasmettitore che è un dipolo, che è questo sistema che vedete qua, che è costituito fondamentalmente da fili di rame che sono avvolti in una membrana, diciamo, poi sono isolati e sono appoggiati sul terreno. Quindi, un condensatore è appunto il sensore stesso, l'altro con cui si accoppia è il terreno, che chiaramente, sopra il quale viene trascinato questo sensore. Quindi il trasmettitore trasmette, quindi si accoppia col terreno in questo modo, il terreno si accoppia con un altro dipolo, simile a quelle delle stesse, cioè identico al trasmettitore, e che è appunto il ricevitore che si accoppia capacitativamente con il terreno e registra e misura appunto un segnale, una differenza di potenziale. Questi due, quindi il trasmettitore e il ricevitore, sono separati da una corda e che ovviamente fa sì che man mano, e questo lo vediamo dopo, man mano che aumentiamo la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore, noi investighiamo il sottosuolo andando sempre più in profondità, come l'immagine che vi ho fatto vedere prima. Ora però purtroppo questo fenomeno non è esente da problemi, quindi quando si lavora nell'ambito del regime quasi statico, o comunque quando si lavora nell'ambito della tomografia elettrica capacitiva, bisogna tenere in mente che ci sono delle forze, dei fenomeni che avvengono e che sono ben noti nella fisica dell'elettromagnetismo, che purtroppo limitano il flusso, la propagazione della corrente nel terreno. Questo ce lo dice molto bene il fatto, per esempio, che un conduttore, quindi un corpo che conduce molto bene la corrente, ahimè a sua volta crea una forza elettromotrice che si oppone alla propagazione della corrente stessa. Quindi questo che cosa significa? Significa che quando si lavora con la tomografia elettrica capacitiva, bisogna tenere in mente che se il corpo che stiamo investigando, quindi il nostro terreno, è molto, 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 molto conduttivo, noi abbiamo molte difficoltà a propagare una corrente nel terreno e quindi fondamentalmente la tecnica è quasi inapplicabile. E differentemente invece quando è un terreno moderatamente resistivo o un terreno resistivo, dove questi effetti, questi effetti elettromagnetici sono trascurabili, non significa che non avvengono, ma sono trascurabili, questo sistema funziona molto bene. In fisica tutto questo che vi ho detto si traduce appunto nel lavorare nel regime di basso numero di induzione, perché tenendo conto dello skin depth, che è appunto questa formula empirica che mette in relazione l'attenuazione di un segnale elettromagnetico in funzione della frequenza e della conducibilità, capite bene che ad alte conducibilità e ad alte frequenze lo skin depth è molto forte, quindi il segnale si attenua molto rapidamente, quindi non si investiga sotto solo a grandi profondità. Viceversa, lavorando su basse resistività, su basse conducibilità, scusate, e basse frequenze, il segnale riesce, l'intensità del segnale riesce a propagarsi molto più a distanza rispetto allo superficie. Il sistema quindi, come vi ho fatto vedere prima, soltanto con un ricevitore e un trasmettitore, ed è poi soprattutto quello che abbiamo noi, può essere configurato con più ricevitori, quindi con un ostendimento può essere fatto il trasmettitore unico, e noi in questo caso abbiamo cinque ricevitori. Chiaramente il ricevitore che è più lontano dal trasmettitore, ma che è più vicino all'operatore, acquisirà un segnale di una differenza di potenziale che proviene da una profondità più grande rispetto al ricevitore che è più vicino al trasmettitore. Quindi c'è un operatore, che chi appello vedremo bene, insomma c'è un operatore a cui è collegato tutto questo bel serpentone, che chiaramente trascina questi sensori sul terreno. Qui abbiamo messo, presi da una recente pubblicazione che abbiamo fatto con Marco Marchetti e Valerio Materni, abbiamo sintetizzato un po' quelli che sono gli array, dove per array è la configurazione con cui spesso viene utilizzato questo strumento, che sono principalmente utilizzati. Quindi di solito chi utilizza lo mapper generalmente lavora o con tre o con cinque ricevitori, quindi o con tre o ne aggiunge altri due, e chiaramente la lunghezza, la dimensione di questo dipolo può variare dai cinque ai dieci metri, e questa è la lunghezza totale dell'array. Quindi capite bene che si può lavorare con una corda, diciamo con uno stendimento di 23 metri, ma possiamo superare anche 50 metri di lunghezza. Tenendo anche conto che, come vedremo adesso, che per aumentare la profondità di investigazione, quello che noi facciamo è aumentiamo la distanza tra il trasmettitore e tutti i ricevitori. Quindi una corda, proprio una corda vera e propria, che si attacca con dei ganci tra il primo ricevitore e il trasmettitore, io posso variarne la lunghezza, e chiaramente variando la lunghezza, io allontanando trasmissione e ricezione vado più in profondità. Quindi questo aumenta ancora di più la lunghezza, diciamo, fisica di questo, chiamiamolo serpentone, che viene trainato dall'operatore. Quindi la profondità aumenta man mano che io allontano il trasmettitore e il ricevitore, e questo ha una similità con quello che avviene nella tomografia elettrica classica, quella galvanica, dove se io aumento, dove più è lungo il profilo, più io vado in profondità. Quindi più gli elettrodi tra di loro sono distanti, e più, diciamo, io riesco a investigare porzioni di sottosuolo sempre più profondi. Per darvi un'idea di quello che è il nostro equipaggiamento, noi quando lavoriamo con cinque ricevitori, con una lunghezza di una corda variabile da cinque metri a quindici metri, riusciamo a raggiungere intorno ai quindici metri di profondità. Chiaramente è profondità massima. E quando invece lavoriamo con i dipoli di ricezione più grandi, quindi non da cinque metri, ma da dieci metri, diciamo, raggiungiamo una profondità che è quasi doppia rispetto a quella precedente. Ora qui vi faccio dello strumento. Lo strumento, quindi, quello che prima avete visto in uno schema semplificato, qui lo vedete proprio realmente. Questa è la console, purtroppo non si vede bene perché per scattare la foto in quelle condizioni è abbastanza complicato, però nella stringa di dati che voi vedete qua, voi avete un'informazione che appunto è il segnale GPS, perché chiaramente l'operatore, oltre ad avere la console davanti a sé, dietro alle spalle porta un GPS che serve appunto a georeferenziale tutto il profilo, tutta la traccia del profilo che fa durante l'acquisizione. E poi ovviamente qui ci sono la stringa, diciamo, tutti questi numeri rappresentano, diciamo, i sensori che sono operativi, cioè si sta dicendo che tutti, in questo caso, abbiamo una stringa di cinque linee, ovviamente, significa che abbiamo, stiamo usando cinque ricevitori. e chiaramente in contesti dove, per esempio, il terreno è un po' pendente o comunque sia ci sono, non è perfettamente pianeggiante, diciamo, chi ha ingegnato questo strumento ha prodotto anche, diciamo, dei supporti che servono proprio a non farlo scivolare sul terreno mentre viene trascinato. Poi noi, in via rudimentale, ci siamo un po', come si dice, ingegnati a basso costo, abbiamo anche comprato dei sottovasi, piatti di plastica e che però comunque funzionano bene. Poi quando si usurano, chiaramente li sostituiamo. E siamo passati di recente dall'avere, come ho fatto dire, una console anche ingombrante con uno zaino, con GPS, quindi un sistema anche un po' pesante, anche un po' macchinoso da montare. Oggi noi praticamente abbiamo una console collegata via Bluetooth con un palmare e quindi vediamo direttamente il nostro percorso su un tablet, su un palmare e anche man mano che acquistiamo i dati vediamo anche il funzionamento di tutti quanti i ricevitori. Questo ha velocizzato ancora di più, diciamo, soprattutto le operazioni di montaggio e di acquisizione. Ora, rapidissimamente sul processing dei dati. Questo che vedete qui, chiaramente, quando io acquisito i dati torno in ufficio, scarico i dati, ci sono dei software dedicati per trattare questo tipo di dati. Quello che vedete qui, appunto, tutti questi pallini, questi quadrati blu sono appunto tutti i punti di misura con le coordinate del GPS associati. Io posso plottare al di sopra questo appunto i dati, i dati grezzi e già individuare all'interno del profilo dove per esempio lo strumento è andato fuori scala, ha avuto dei problemi, ha perso il segnale. Poi, un'operazione classica che si fa è un classico filtro, diciamo, un despiking, cioè si vanno a togliere valori fortemente o visibilmente fuori scala e appunto dopodiché questo dato viene esportato in un formato leggibile da software che comunemente vengono utilizzati per processare gli stessi dati che si utilizzano per la tomografia lettera di classe, quindi per invertire con dei codici di inversione questi tipi di dati. E la procedura poi è esattamente la stessa. Quindi, questo vale per due profili ma noi possiamo fare proprio perché è una tecnica definita aspeditiva cioè una tecnica che non prevede il martellamento di elettroni del terreno bensì un trascinamento noi abbiamo la possibilità di poter fare tanti profili anche lunghi in poco tempo e avere subito in maniera molto rapida un'indicazione di quelle che è la setta distribuzione della resistività anche su vaste aree perché io posso fare diversi profili coprendo in poco tempo vaste aree e quindi avere anche tentare di fare anche una ricostruzione tridimensionale dei primi metri di profondità del sottosuono. L'output dopo appunto tutto il processamento e la modellazione di questi dati è una classica sezione 2D di resistività dove in ascissa abbiamo dove appunto vediamo la distribuzione della resistività in funzione della profondità. Quindi questo è l'output che è esattamente la stessa identica cosa lo stesso output che si ha quando si fanno misure di tomografia elettrica galvanica quella classica con i picchetti. Ora i campi di applicazione sono diversi nel nostro caso come ho detto anche in precedenza noi l'abbiamo utilizzato sia in campo archeologico sia in campo geologico l'abbiamo utilizzato in campo ambientale per caratterizzare una discarica questi sono tutti i casi che dopo vedremo ma soprattutto diciamo soprattutto in quest'ultimo periodo lo stiamo utilizzando molto per studiare per localizzare e individuare cavità nel sottosuolo anche e soprattutto in area urbana. Ora c'è da fare una piccola premessa chiaramente essendo una tecnica speditiva questo non ci consente ahimè di avere un dato estremamente pulito o esente da disturbi legati principalmente al trascinamento e all'accoppiamento col terreno che purtroppo non è sempre perfetto però tenete anche presente che se questo da un lato è uno svantaggio rispetto alla geolettrica che invece restituisce generalmente modelli più puliti più stabili più sicuramente più meno rumorosi però dall'altro canto c'è un enorme vantaggio che chiaramente è molto speditivo è molto veloce in poco tempo ci dà questa informazione quindi per questi campi di applicazione che vi ho detto uno dei motivi principali per cui noi l'abbiamo applicato è perché comunque in poco tempo ci ha dato subito delle indicazioni che poi ovviamente abbiamo sviluppato abbiamo dipanato meglio anche con altre tecniche e nel mondo in giro per il mondo facendo un po' un rapido informandomi un po' vedendo un po' di lavori fatti negli ultimi anni le applicazioni principali con cui lo mapper è stato utilizzato sono fondamentalmente la mappatura di permafrost e sono stati fatti gli esperimenti anche in Atartide ma soprattutto per studiare appunto diciamo l'integrità del manto stradale qui vi faccio vedere due esempi uno appunto come vedete qua il collega che lavora in un contesto come questo e il loro obiettivo era appunto andare a trovare punti dove il manto stradale presentava dei problemi di subsidenza chiaramente cosa che ho detto prima ma lo dirò sicuramente anche dopo con questa tecnica soprattutto quando si utilizza in ambito urbano viene molto spesso accoppiata con un giorata perché chiaramente il giorata anche lavora molto bene in questi contesti e l'accoppiamento di queste due tecniche ci permette comunque di caratterizzare in maniera molto più accurata il sottosuolo e soprattutto laddove una tecnica non funziona bene magari l'altra può dare delle indicazioni utili e viceversa un altro caso di studio è interessante per esempio in Canada viene molto utilizzato viene utilizzato periodicamente nei periodi appunto diciamo non voglio dire nei cambi di stagione perché insomma non è che ce ne siano tantissimi in Canada però diciamo nella fase in cui si passa dal freddo freddo al caldo che è una fase che dura poco tempo ma c'è c'è un problema diciamo di c'è uno strato attivo di permafrost che subisce uno scioglimento e poi si riforma appunto nel periodo invernale e utilizzano lo map nelle piste di atterraggio e di decollo degli aerei proprio per andare a studiare quant'è lo spessore di questo strato attivo perché chiaramente questo incide molto eventualmente nel dover chiudere temporaneamente la pista o di utilizzarne un'altra per un altro periodo perché questa pista ha delle problematiche diciamo di stabilità del manto stradale questo è per farvi capire una delle applicazioni ora quindi molti dei vantaggi già ve l'ho detti le limitazioni chiaramente come potete immaginare poiché questi sensori vengono trascinati da un operatore sul terreno il terreno se presenta delle asperità e questo chiaramente limita il trascinamento dei sensori o meglio se non li limita del tutto comunque rende le misure un pochettino più rumorose soprattutto quando il sensore balla un pochettino sbatte o si incaglia su qualche pianta o su qualche sasso eccetera eccetera e quindi di conseguenza anche il fatto di lavorare su pendii non pianeggiati su pendii anche scoscesi questo è un problema perché le misure le potresti fare magari e l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto a Norcia per esempio per studiare un sito prima di fare una discarica chiaramente è vero che è faticoso però chiaramente lo puoi fare sull'unque la massima pendenza magari lo fai in salita o in discesa ma chiaramente non lo puoi fare parallelamente insomma lungo l'isoligno perché altrimenti i sensori scilerebbero verso il basso e poi non meno importante il fatto che questo sistema è non mi piace della parola limitato però diciamo che funziona meglio nei in terreni diciamo resistivi quindi non funziona bene per esempio quando io sto lavorando in contesto urbano e praticamente ho una serie di sottoservizi sotto al manto stradale che corre parallelo al PAT che io devo fare per fare il mio rilievo chiaramente io lì non riesco a trasmettere nessuna corrente perché l'accoppiamento capacitivo fallisce perché violiamo la teoria appunto del basso numero di induzione che vi ho fatto vedere prima allora adesso vi faccio vedere un po' di casi di studio che in realtà ve li ho organizzati in maniera tale per cui il loro ordine è proprio per come si sono susseguiti nel tempo quindi hanno anche un senso temporale il primo caso di studio è stato a Ponza erano chiamati hanno stati chiamati intorno a verso la fine 2015 o i primi mesi del 2016 a venire a lavorare in questa discarica perché c'era una problematica di illecito ambientale quindi si si sospettava che all'interno di questa discarica di Ponza chiamata discarica di Monte Pagliaro ci fosse da qualche parte un interramento illecito dei rifiuti poi parlando a seguito della conferenza di servizi a cui partecipammo è emerso anche l'esigenza di dover se fosse stato possibile di stimare quello che era il volume dei rifiuti di questa discarica questa discarica dal punto di vista geologico praticamente è diciamo è stata diciamo coltivata in in un deposito che si chiama ialoclastite che è appunto un tufo cioè un tipo di roccia vulcanica e noi fondamentalmente cosa abbiamo fatto la prima cosa che abbiamo fatto ci siamo portati l'on-mapper abbiamo detto testiamo questo strumento abbiamo fatto pulire chiaramente tutta l'aria e e abbiamo fatto delle misure all'epoca avevamo tre ricevitori abbiamo utilizzato due tipi di corda abbiamo fatto in maniera rapidissima in meno di due ore di lavoro abbiamo fatto quattro profili anche abbastanza lunghi e abbiamo avuto il primo diciamo abbiamo esplorato quello che era diciamo l'assetto della distribuzione della resistività ne sono i primi 5-6 metri e questi diciamo sono i risultati come potete vedere c'erano anche delle piccole scarpatine però lo strumento ha lavorato bene come potete notare alcuni profili hanno un errore diciamo abbastanza abbastanza alto questo perché perché durante il tragitto durante l'esecuzione del profilo nella discarica ahimè delle volte abbiamo perso segnale perché una discarica per definizione almeno quel tipo di discarica c'era un po' di tutto quindi c'erano anche difiuti che non ci sarebbero dovuti stare e questo chiaramente hanno creato un po' di problemi nella trasmissione del segnale con la tomografia elettrica però questo ci ha dato un imprint per come impostare poi successivamente si qui faccio vedere un po' i dati alcuni spike e come impostare poi successivamente invece una campagna poi fatta praticamente iniziata successivamente alle misure di gelettrica di tomografia elettrica classica dove in questo caso abbiamo potuto investigare anche tutta la discarica quindi attraversando anche questa grossa scarpata che chiaramente con l'on mapper non si poteva fare e che però chiaramente andando a confrontare i risultati ottenuti con le due tecniche abbiamo visto che chiaramente con la tomografia elettrica si sono stati molto più profondi quindi abbiamo trovato il substrato abbiamo potuto fare tutta una serie abbiamo modellato in 3D quello che era il top di questo substrato quindi sarebbe il bottom dello strato di rifiuti abbiamo fatto una stima ma soprattutto abbiamo trovato come primo esperimento un'ottima correlazione tra la tomografia elettrica classica e la capacitiva quantomeno nei primi 5 metri poi facendo altre tecniche abbiamo utilizzato anche il metodo magnetico abbiamo trovato anche le memorie sospette però non ve le mostro qua poi come secondo caso siamo stati chiamati per lavorare nel parco dell'appia antica qui c'era un problema di capire dove passavano alcune fungaglie insomma delle gallerie scavate nel sottoterra e abbiamo colto l'occasione per testare subito l'on mapper abbiamo fatto un profilo qui la galleria diciamo l'entrata della galleria era qui dove c'è questa stella abbiamo fatto un profilo rapidissimamente è emersa questa anomalia abbiamo fatto successivamente subito la tomografia elettrica e anche qui abbiamo trovato un'ottima corrispondenza quindi abbiamo cominciato un po' questo allenamento quindi siamo passati da una discarica a una cavità abbiamo cominciato a toccare con mano quelle che sono le potenzialità di questa tecnica quindi abbiamo chiesto la possibilità di poter investigare altri tipi di target come quello quindi altri tipi di cavità sempre all'interno del parco dell'appia antica e qui vedete sempre un confronto tra sopra il profilo di tomografia di galleria elettrica capacitiva e sotto della tomografia elettrica classica chiaramente una prima cosa che salta all'occhio è che c'è una differenza di risoluzione quindi capacità di risolvere il sottosono nei primissimi metri che è abbastanza evidente tra la tomografia elettrica capacitiva e la tomografia elettrica classica diciamo che a parità di dimensione dei dipoli quindi se io usassi degli elettrodi spaziati 4 metri come dovrebbe essere per emulare quello che è l'effetto cioè la dimensione del dipolo dell'home mapper io avrei più o meno la stessa risoluzione in superficie chiaramente io con la geolettrica posso utilizzare spaziature elettrotiche più piccole e quindi andare a illuminare corpi che sono più superficiali questo ovviamente è un fenomeno ben noto quindi però questo per dire cosa bisogna tenere presente che l'home mapper ha delle carenze di informazione nel primo metro diciamo possiamo spingerci anche laddove l'accoppiamento capacitivo non è buonissimo anche nei primi due metri di profondità cioè è una problematica che va tenuta conto successivamente ho messo appositamente la data il 17 ottobre siamo stati chiamati per andare a fare delle indagini in maniera diciamo anche con tempi molto stretti ahimè ad amatrice perché dopo il 24 ottobre il terremoto del 24 agosto c'è stato c'era una insomma a parte la devastazione c'era una necessità di dover recuperare quanto se era possibile una parte del campanile della della torre civica e chiaramente dovendo passare mezzi pesanti in un contesto già fortemente disturbato vi era necessario di capire se la strada che doveva percorrere il mezzo pesante fosse al di sotto la strada ci fossero delle cavità cavità che molto probabilmente potevano essere state lese a seguito del terremoto quindi noi siamo intervenuti subito con lo mapper abbiamo fatto i profili laddove soprattutto P1 e P2 laddove sarebbero dovuti passare questi mezzi pesanti e questo era il contesto in cui lavoravamo quindi vabbè purtroppo sono immagini che ahimè molti di noi ricordano bene e questi sono i risultati che abbiamo ottenuto ora queste anomalie che voi vedete qua rosse non necessariamente sono delle cavità ovvero noi con questa sezione non possiamo dire ah queste cavità se sono delle cavità comunque sono integre o non sono integre in teoria questa informazione andava integrata anche con altre tecniche tipo il gerater che è stato fatto però abbiamo dato un'indicazione massima in cui lungo il tragetto abbiamo detto guardate che ci sono delle anomalie resistive poiché una cavità essendo se è vuota quindi riempita solo di aria dal punto di vista elettrico si comporta come un isolante quindi dal punto di vista della resistività è un alto resistivo abbiamo dato questa 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 indicazione qui ripeto in tempi molto rapidi poi purtroppo c'è stato pochi giorni dopo veramente pochi giorni dopo il 30 ottobre il terremoto 6 magnuto 6.5 che credo abbia distrutto anche la torre e sempre temporalmente subito dopo con un collega Fabio Villani avevamo iniziato a lavorare nella piana di Castelluccio dove eravamo interessati a studiare questa questa rottura cosismica a seguito del terremoto del 30 ottobre e che abbiamo pubblicato qualche anno fa e ci è andata l'idea dico ma perché non proviamo l'on mapper vediamo un po' come risponde anche in un contesto come questo per vedere se funziona bene anche per pari discontinuità dovute per esempio a una faglia questa è l'immagine pubblicata della tomografia elettrica classica questo è faccio vedere un video sperando che si veda bene questo è qui vedete proprio il sistema in movimento quindi il trasmettitore la corda all'epoca avevamo solo tre ricevitori e l'operatore con una zaino con GPS che traina questi sensori qui più o meno abbiamo attraversato la rottura cosismica che passa questa piccola scarpatina morfologica che si vede bene e niente poi quindi abbiamo esplorato sia l'engi wall che il foot wall di questo splay e se io adesso non vi dicessi nulla voi avreste difficoltà a dirmi quale è stata fatta con la tomografia elettrica classica quale è stata fatta con l'on mapper io vi dico che quello che sta sopra è stato fatto con l'on mapper guardate la corrispondenza quasi perfetta con la tomografia elettrica classica soprattutto per questo cuneo di accrezione che è veramente bellissimo e chiaramente con l'on mapper non abbiamo superato non abbiamo non abbiamo raggiunto le stesse profondità di indagine con la tomografia elettrica classica ma ci abbiamo impiegato poco più di mezz'ora per fare questo profilo ma soprattutto ci ha aperto degli scenari cioè di poter utilizzare questo sistema per esempio per mappare in contesti come quelli strutture che in questo caso era una struttura nota uno splay già noto dai primi anni del 2000 ma che magari in altri contesti potrebbero potrebbero esserci delle scarpate che si possono investigare in maniera rapida con questa tecnica e magari scoprire delle discontinuità dovute a presenza di una falia e subito dopo l'abbiamo utilizzato per esempio per trovare il sito dove è stata scavata la trincea più o meno in quel periodo un lavoro poi pubblicato da Francesca Scinti nel 2019 e questi sono i risultati dell'on mapper quindi misure fatte in questo punto qui vedete la rottura cosismica sempre a seguito dei terremoti il 24 agosto del 30 ottobre e questo è il risultato che ne abbiamo tenuto la cosa interessante è che queste piccole inflessioni che noi vediamo qui nel modello nel modello tomografico elaborato corrispondono in maniera diciamo perfetta comunque hanno una buonissima corrispondenza con delle fratture che si vedono benissimo nei depositi in questi depositi conduttivi che abbiamo mappato qui e quindi anche per esempio utilizzarle in maniera speditiva per trovare siti idonei per posizionare i trincea i pali sismologici che potrebbe essere sicuramente in futuro un utilizzo che potremmo fare con l'on mapper in campo archeologico vado un po' più veloce qui con la sovrintendenza ci hanno permesso di poter studiare un sito Grotte di Castro che è in provincia di Viterbo non so magari qualcuno di voi lo conosce qui abbiamo fatto cercavamo delle tombe che dal punto dagli studiosi precedenti avevano capito che erano organizzati in questa maniera quindi c'era un dromos che poi a un certo punto si apriva e si entrava in camere sepolcrali quindi qui lo vediamo in pianta qui in sezione noi siamo andati lì e siccome parte si sospettava che parte del dromos fosse sia su strada e poi quindi questa strada qui e poi entrasse all'interno di questo di questo piccolo terrazzo nel tufo soprattutto perché c'erano già due tombe note noi abbiamo fatto delle misure con l'on mapper in questo terrazzo in questa strada abbinate chiaramente al giurata e questi sono i risultati che abbiamo ottenuto quindi queste anomalie che poi abbiamo chiamato interpretato successivamente e che abbiamo confrontato con il in questo caso vedete questa è una tomba nota e questo è il segnale molto resistivo chiaramente lo pizzichiamo solo di bordo perché purtroppo qui finisce il terreno però per dirvi che in maniera molto rapida abbiamo fatto tre profili e abbiamo ottenuto questi modelli estremamente interessanti soprattutto questo qui che abbiamo chiamato E8 perché è il profilo fatto sull'asfalto lo abbiamo confrontato con la tomografia elettrica classica che ha trovato un'ottima corrispondenza con un maggior dettaglio superficiale e chiaramente con le riflessioni emesse dai datagrammi le misure del giurata e qui abbiamo anche sperimentato una cosa secondo me molto carina anche le misure geochimiche soprattutto di Radon e Toron e del loro rapporto perché era interessante capire se queste se queste diciamo anomalie che noi abbiamo interpretato come essere tombe se fossero vuote parzialmente vuote e quindi in un contesto vulcanico quanto Radon avevano accumulato e quindi abbiamo fatto questo confronto ed effettivamente anche qui abbiamo trovato un'ottima corrispondenza quindi i picchi del rapporto Torono su Radon coincidevano con le anomalie di resistività che noi avevamo individuato col profilo e abbiamo ricostruito in diciamo se vediamo questa immagine abbiamo ricostruito praticamente questo è l'anomalia della strada era qua qui si vede anche la rottura qui si entrava nel sottosolo ci sono queste tre anomalie che sono queste qui che sono allineate così e c'è un'altra camera che è questa qui che sta posta un po' più in alto sul profilo della strada e quindi abbiamo scoperto diciamo abbiamo scoperto niente di chissà quanto importante però comunque abbiamo dato un'informazione agli archeologi che tra questa e questa ce n'era un'altra organizzata esattamente come quella già notte oggi come vi ho detto prima lavoriamo principalmente ormai da due anni a questa parte principalmente con l'omapper per studiare e localizzare cavità in area urbana che insomma molti di ovviamente noi lavoriamo a Roma ma questo non è un problema che riguarda solo Roma riguarda ahimè tante città anche non soltanto in Italia e perché? perché l'asfalto perché chiaramente lavorare sull'asfalto con questa tecnica è l'ideale perché l'asfalto è molto resistivo quindi accoppia bene con il nostro strumento e ci permette chiaramente il fatto di trascinare questi sensori sull'asfalto è molto semplice non è una cosa faticosa però ahimè chiaramente lavorare in contesti urbani sapete tutti meglio di me quante difficoltà ci stanno non soltanto dal punto di vista logistico come potrete immaginare ma ma anche dal punto di vista diciamo geologico soprattutto la città di Roma ha complessità geologica abbastanza note quindi interpretare i risultati i modelli che noi otteniamo in questi contesti a me non è semplicissimo però è la una delle tecniche insieme al georadar che meglio secondo noi si presta soprattutto anche alla luce dei risultati che abbiamo ottenuto per mappare in maniera meno invasiva possibile pensate al fatto di dover bloccare il traffico per una giornata per fare n profili di tomografia elettrica o di sismica quello che si vuole o bloccarlo per dieci minuti mezz'ora il tempo di fare che ne so questa strada qua dal punto di vista logistico e dell'impatto che hanno queste indagini nella viabilità chiaramente capite bene che c'è un'enorme differenza e quindi con la protezione civile ormai da due anni col comune di Roma e oggi nell'ambito del progetto Muse che è stato finanziato dalla regione Lazio stiamo facendo tantissimi interventi di questo tipo chiaramente con una limitazione ahimè che i risultati che spesso otteniamo sono molto rumorosi perché perché il contesto urbano è abbastanza complesso vi faccio vedere rapidissimamente poi concludo due casi qui siamo nella zona della casilina c'era un problema di instabilità in questa in questo parcheggio c'era proprio qui si è aperto proprio un sinkhole e abbiamo fatto le misure quindi oltre che nel parcheggio abbiamo detto facciamo anche le misure nella strada vediamo un po' se ci sono delle anomalie delle zone critiche da dover segnalare quello che è emerso in tutto il profilo della strada è questa enorme questa anomalia molto forte che cade esattamente in corrispondenza dell'ingresso di questo centro sportivo cioè voi immaginate quanta gente che qui tutti i giorni passa con le macchine ovviamente è stato chiusa la strada è stato chiuso tutto quanto hanno fatto ulteriori accertamenti qui sotto c'era una cavità tra l'altro una cavità che era anche diciamo abbastanza in condizioni critiche da quello che ci dicono chi ha fatto gli accertamenti diretti quindi questo è un esempio ve ne faccio vedere un altro per esempio nella zona della stazione perenestina qui c'era sempre una stessa identica problematica cioè capire se ci fossero delle cavità critiche per la viabilità per la sicurezza della stabilità dei palazzi eccetera eccetera guardate quante misure in poco tempo siamo riusciti a fare sia col georadar che con che con l'on map abbiamo tirato fuori delle sezioni abbiamo indicato delle zone chiaramente critiche che secondo noi potrebbero essere delle potenziali cavità nel sottosolo che vanno ovviamente investigate ed eventualmente messe in sicurezza l'ultimo vi faccio vedere al Colosseo di notte alle tre di notte è stato sgomberato questo palazzo qui siamo a via Marco Aurelio il Colosseo si trova praticamente qua perché? perché c'è stata una subsidenza tale per cui fuoriscite di gas di acqua la gente si è spaventata si arriva a dirigere il fuoco hanno sgomberato il palazzo hanno sfollato il palazzo e noi il giorno dopo siamo intervenuti proprio immediatamente ci hanno chiamato colleghi della posizione civile abbiamo fatto un approccio multiparametrico dei profili sia con il georadar che con l'on mapper e anche con la tomografia elettrica perché la problematica era molto delicata volevamo essere dovevamo rispondere a una domanda per cui possiamo far tornare le persone a casa oppure le dobbiamo tenere fuori in albergo quindi capite bene insomma abbiamo cercato di fare il possibile abbiamo trovato un assetto elettrostratico del sottosolo di questo tipo sopra i risultati dell'on mapper sotto i risultati della tomografia elettrica e questo è il match che c'è stato anche e soprattutto con i risultati della georata dove si vedeva molto bene la zona in subsidenza che dal punto di vista elettrico rispondeva come conduttiva perché fondamentalmente c'era stata una grossa perdita d'acqua e quindi il terreno si era imbibito d'acqua e si era appunto si era formata questa depressione vado rapidissimamente per dire che siamo intervenuti a casa Micciola dopo il terremoto appunto del 2017 abbiamo lavorato nel centro storico di Firenze nel 2018 insieme all'università in collaborazione di Firenze abbiamo lavorato nel parco dell'ossia antica con una collega dell'università di Berlino e in futuro abbiamo sottomesso di recente un progetto per ricerca libera il nostro obiettivo è quello di sistemare questo sistema non più trainandolo da un operatore bensì da un quad lavorare su vaste aree soprattutto in campo archeologico ma anche geologico non mi dispiacerebbe studiare per esempio aree mappare diciamo faglie attive capaci anche con questo sistema ma non mi dispiacerebbe chiaramente in contesti dove il metodo è applicabile però ovviamente continueremo a lavorare nell'ambito del progetto Muse o comunque in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile e Comune di Roma per studiare appunto e si incolla aree diciamo con caratteristiche tali per cui si possono creare dei si incolla e prima di ringraziarvi per l'attenzione vi volevo segnalare questa pubblicazione che abbiamo fatto di recente con Marco Marchetti e Valerio Materni che insomma riassume un po' tutte queste cose che vi ho illustrato entrando magari un po' più nei dettagli ed è quasi una brochure che potete proprio utilizzare per imparare proprio l'impiego di questa tecnica grazie ovviamente se ci sono domande sono benvenute io spero perché mi sa che Pier Giorgio è andato via io spero che magari qualcuno di voi ha suscitato un po' l'interesse con questa presentazione magari per future collaborazioni che so se avete delle idee delle oppure delle problematiche che dovete risolvere dove pensate che magari potremmo intervenire anche con questa tecnica sono sono le benvenute noi come gruppo come avevo detto all'inizio siamo proprio a propensi a collaborare con gli altri e fare cose insieme Vincenzo ciao sono Achille mi senti? Sì ti sento ciao Achille Ciao senti ti volevo fare una domanda ho visto che voi utilizzate 5 ricevitori per la geolettrica capacitiva e mi domandavo se potevano essere aumentati il numero di ricevitori questo per permettere chiaramente una risoluzione maggiore oppure anche per ridurre nelle situazioni in cui c'è molto rumore attraverso delle medie il rumore quindi se è possibile aumentare il numero di ricevitori grazie allora sulla possibilità o meno di aumentare allora dal punto di vista tecnico non lo so nel senso che probabilmente questa cosa è possibile farla nel senso che alla fine questi dipoli sono dei cavi che sono predisposti per essere collegati l'uno con l'altro quindi se io comprassi se noi acquistassimo altri due diciamo per esempio altri due ricevitori li possiamo collegare tranquillamente ora però c'è un aspetto bisogna tenere presente Achille che chiaramente più è lungo questo serpentone più diventano veramente difficili le operazioni di trascinamento cioè cinque siamo veramente siamo veramente al limite ma anche proprio per il peso stesso della strumentazione che ti garantisco che quando si lavora in asfalto ok ma quando si lavora già sul terreno ti posso garantire che l'attrito dei sensori sul terreno è tale per cui è veramente faticoso tra i nali però certo nell'ottica di utilizzare un quad che è appunto quello che è il nostro prossimo step secondo me è una cosa è una cosa che si può fare penso che penso che non ci siano dei limiti cioè delle limitazioni elettroniche nell'elettronica dello strumento per non poterne collegare degli altri eccomi qui c'è Carlo che voleva fare una domanda il presidente prego bel seminario Vincenzo grazie capisco che vogliate prendere un quad per divertirvi comunque mi sembra un'ottima iniziativa è bellissima la trasversalità praticamente c'è un'applicazione di queste tecniche rapidissime per tutti i dipartimenti per tutto quello che facciamo in istituto quindi penso che sia veramente da sostenere c'era una cosa che ti voglio chiedere chiaramente tutto è molto è relativamente semplice quando si tratta di lavorare su un terreno o pianeggiante o liscio quando si tratta invece di andare su zone più scoscese più problematiche poi l'altra cosa che ti volevo chiedere è qual è la massima profondità che potrebbe essere raggiunta con questa tecnica l'hai detto un po' all'inizio ma volevo chiederti quale potrebbe essere la frontiera della profondità allora ti rispondo prima la sera innanzitutto grazie per l'intervento allora ti rispondo prima la seconda domanda allora la profondità di indagine guarda io sono stato prima dell'inizio del insomma prima del lockdown siamo stati a San Francisco all'AGU ho partecipato a una sessione di Nierstar e Geophysics e lì c'era un collega dell'USGS che presentava un enorme esperimento fatto con lo mapper in Antartide per trovare un deposito di kimberlitico e hanno ingegnato ingegnerizzato un sistema doc chiaramente con dei dipoli lunghi 200 metri ne hanno utilizzati mi pare 4 quindi avevano una coda di un chilometro trainata con una motoslitta e sono arrivati a quasi 150 metri di profondità hanno fatto diversi chilometri lineari di stendimento e hanno ricostruito in 3D questo corpo kimberlitico quindi in un contesto in cui si può lavorare con dipoli grandi chiaramente non è sopportunatamente ingegnerizzati possiamo raggiungere anche quel genere di profondità diciamo nel nostro mondo quello che abbiamo finora utilizzato noi non abbiamo mai superato i 15-20 metri di profondità perché vuoi la logistica vuoi la disponibilità strumentale che abbiamo ma anche proprio le complessità di trainare un sistema del genere è lungo più di quello diciamo non riusciamo ad andare però diciamo che noi nei primi 15-20 metri possiamo dare delle indicazioni rapide sull'assetto elettrostrate grafico del sottosuolo riguardo invece alla problematica diciamo del lavorare su versanti scoscesi beh questo chiaramente è un limite nel senso che a Norcia abbiamo lavorato con l'ommappare su un versante chiaramente era faticoso quando si faceva il profilo in salita era meno faticoso quando si faceva in discesa però era un contesto diciamo anche quello semplice perché comunque era un bel prato non c'era vegetazione si vedeva la rottura si vedeva la scarpata si poteva attraversare la scarpata e quindi abbiamo fatto delle belle misure è chiaro che se oltre a essere un terreno pendente anche ci sono delle scarpate che ti devi arrampicare per scavalcarle e c'è vegetazione è chiaramente ahimè è una tecnica questa tecnica qua non si può utilizzare grazie c'è Vincenzo Romano che voleva fare una domanda sì tanto grazie Vincenzo per la presentazione veramente bella e far vedere le potenzialità enormi di questa tecnica come diceva il presidente Carlo prima sicuramente in una maniera molto trasversale a molte attività dell'ente io mi scuso che ho perso i primi minuti quindi magari puoi averlo detto nel momento in cui non ero collegato io insomma vedo che questa attività che svolgete insomma nel vostro gruppo potrebbe avere delle grossissime ricadute anche nella seconda missione dell'ente tutto ciò che riguarda i servizi e ricerca per la società in questi termini come pensate di orientarvi nel futuro con degli accordi quadro con dei contratti verso l'esterno a livello ministeriale perché effettivamente l'impatto che queste tecniche possono avere su molti aspetti di interesse per la società e per l'industria anche è notevole quindi come pensavate di muovervi con il gruppo nel prossimo futuro a tal riguardo o magari già lo fate anzi sicuramente già lo fate allora anzitutto grazie per questa domanda allora diciamo che questo il nostro interesse è anche diciamo trasferire questo know-how anche verso diciamo società che poi magari si possono occupare di fare proprio per esempio nell'ambito del monitoraggio delle cavità in aria urbana ti ricordi poi tra l'altro ne parlammo anche qualche tempo fa questa secondo me è una cosa importante da fare cioè non tanto pensare che noi come gruppo possiamo mappare tutta Roma ma quanto per esempio postare un capitolato un modum operandi per utilizzare questa tecnica che poi però necessariamente deve fare qualcun altro ok quindi che sia un consorzio che sia una vita quello che sia insomma e quindi in questo ambito ne abbiamo parlato poi purtroppo oggi fai una cosa domani ne fai un'altra quindi siamo un po' fermi come progettualità da questo punto di vista quello che continueremo a fare è collaborare su richiesta a volte anche come contratti di consulenza lo abbiamo già fatto continueremo a fare se un comune ha una problematica ci chiama noi ovviamente se siamo nelle condizioni di poterlo fare interveniamo noi solo lavoriamo su convenzioni però ecco sarebbe bello costruire qualche cosa come dici anche tu degli accordi per cui noi diciamo come gruppo ma come ente diciamo mettiamo al servizio della società questo know-how per fare cose anche che poi siano di impatto per la gestione del territorio questo senz'altro cioè siamo ben propensi a fare eventualmente una cosa del genere assolutamente sì lo abbiamo già pensato e sicuramente speriamo di poterlo realizzare ok Vincenzo io direi che possiamo chiudere qui ti ringrazio per il bellissimo seminario grazie a voi scusami che non l'ho sentito e ci vediamo mercoledì prossimo perché ci sarà e in questo punto interrompo la condivisione e la registrazione e alla prossima un saluto ok grazie a tutti buon promedio grazie